Perché il luogo dove voi vi trovate adesso, in esso vi sorgeva un tempio, il Tempio di Ercole, un tempio pagano. Non sarà come quello dell'altra volta, in cui forse tu hai unicelato anche dell'acqua, ne ho bevuto tanto e non mi ha fatto alcun effetto. Non è necessariamente della migliore specie, questo qui. Perché la gente non ti paga. E non mi paga se tu mi ci metti l'aceto qua, qua giù nella tua... come si fa? Eh, lo so, però tu! E' cattiva! Non sono di me niente di gioia, è bello camminare per esserti vicino. Camminiamo, figlia mia, te cosa? Donna, sai benissimo che in questa famiglia solo io posso sapere come vanno le cose. Lascia già bene. Dice, siamo io e mi amici e te. Buon figlio. Buon figlio. Non so, guarda, è un senso che mi piace qui su, andiamo a fare un altro programma. No, non pensate qua, cosa? Tanto qui... Prima non mi provare. Lo punto, sono sempre ben sempre. Buon figlio, schifo! Ma che? Schifo! Ma che cosa c'è? Viò, vediamo la loro... È il vino buono questo... Il vino buono? Tu non sai con chi stai abusando? Ti rivolgi a noi con questo schifoso che non siamo nombi romani? Vediamo qui, da Roma, che ha conquistato il mondo. Ma questo schifoso di vostro... Va, va, va che? Questo è tutto. Dai loro vestiti? Posso vedere una cosa da molto romano? Forse dalla Babilonia? Che dici? Mie cari panciole... Sì... Sapete, vi hanno raccontato una storia che parla proprio di queste terre della Babilonia. Si dice che in quelle terre esisteva un re. E sapete, la po' era la Iana. Che tu sia un aneto! Il popolo che l'ha liberato! Che cosa ha fatto? Sì, scappiamo! Sì, scappiamo! A corretti, a corretti! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.